Dopo il successo della riscoperta per trekking e pellegrinaggi dell'antica via francigena ora anche un'app che fornisce informazioni e spiegazioni ce ne parla Andrea Marini se ormai famosa organizzata e frequentata è l'antica via francigena che fin dal decimo secolo era il percorso che da Canterbury conduceva i fedeli a Roma in pellegrinaggio sulla tomba di Pietro meno conosciuta è la seconda parte del viaggio degli antichi pellegrini che una volta giunti a Roma riprendevano il loro percorso di fede verso la terra santa è la cosiddetta via francigena del sud che da Roma appunto portava brindisi da dove ci si imbarcava per attraversare il mediterraneo seguendo inizialmente il percorso della prenestina gallicano palestrina cave gennazzano palliano fino al piglio e fino al piglio ora il percorso può essere seguito e conosciuto con un'app sul tablet questa applicazione permette di seguire con una mappa dettagliata tutte le tappe che da Roma vanno fino a piglio compreso l'attraversamento dei centri storici per chi ha tempo di fermarsi e di conoscere le realtà locali essendo sempre seguiti sul tracciato col sistema gps e avendo tutta una serie di informazioni storiche geografiche artistiche delle realtà che attraversa eccellenza l'importanza di questi percorsi nell'anno della fede l'importanza è legata alla maturazione di fede che noi ci proponiamo per questi giovani il pellegrinaggio comporta lasciare lasciare e tenere solo quello che è essenziale e questa è l'educazione alla fede